ciao 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 e benvenuto benvenuta benvenuta in questo nuovo video ASMR oggi cercherò di farti rilassare 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 e cercherò di accompagnarti accompagnarti nel tuo riposo cercherò di farti addormentare 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 e tanti tanti sussurri spero che questo video ti aiuti e soprattutto che ti piatto non dimenticare di lasciare un like attivare la campanella ma soprattutto di iscriverti al canale cominciamo ciao ti vedo davvero un po' giù di morale c'è qualcosa che invade la tua mente c'è qualcosa c'è qualcosa hai bisogno di relax sei nel posto giusto si sei nel posto giusto andro 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 forti tante coccole coccole e massaggi 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 alli tempi 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 solo il viso 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 l'ambrotte l'ambrotte le naso le naso le labbra le guanche le guanche le guanche soltanto 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 regalzante regalzante prova a chiudere gli occhi chiudi gli occhi e rilassati rilassati suota la mente non pensare più a nulla ma concentrati conci e rilassati suota 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 rilassati rilassati non pensare non pensare a nulla suota 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 che io ti stavo anche e rilassati manda via tutte tutte le paure tutte le ansie tutte negativi brutti pensieri e il risultato chiudere le banche e rilassati 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 io ti auguro una dolce dolcissima buonanotte